Il bilancio di sostenibilità è un aspetto fondamentale per un'azienda che guarda il territorio, per un'azienda che ha un ruolo sociale importante, così come Marche Multiservizi. Marche Multiservizi è un'azienda che ritengo sia attrezzata fortemente per affrontare queste sfide difficili e delicate. I temi li conosciamo tutti, sono quelli della crisi idrica in questo momento, ma sono quelli della transizione ecologica, della neutralità carbonica. Quindi da questo punto di vista l'azienda ha ottenuto anche dei premi a livello nazionale, la migliore utility per la sostenibilità per il secondo anno consecutivo e quindi vogliamo evidenziare questo ruolo di Marche Multiservizi. Delle volte ci si focalizza in maniera anche un po' dispregiativa rispetto ai dati economico-finanziari patrimoniali che sono buoni per fortuna, quindi rivendichiamo anche quel bilancio lì, ma oltre a quel bilancio c'è tutto un altro mondo che è quello del bilancio di sostenibilità, degli obiettivi di sostenibilità, che rispondono a quelli che sono gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. Quindi andiamo a misurare il cosiddetto valore condiviso, quindi in termini di risparmio energetico, di efficientamento, di produzione di energie da fonti rinnovabili, di economia circolare, Marche Multiservizi si occupa di rifiuti, per cui siamo impegnati nella circolarità del prodotto, quindi nel suo recupero, anche a livello impiantistico abbiamo in essere diversi progetti, speriamo che i fondi PNR ci possano aiutare in questo miglioramento dell'impiantistica, perché vogliamo affrontare questo periodo con tutte le carte in regola, per cui vogliamo presentare questo bilancio di sostenibilità, ma vogliamo anche rassicurare e confrontarci con gli altri rispetto alle azioni da intraprendere per il futuro. Marche Multiservizi troppo spesso viene vista come l'azienda che manda le bollette, che non fa bene una cosa, che non fa bene l'altra, e purtroppo ci si dimentica di quanto lavoro c'è per fare le cose che facciamo. Aprire il rubinetto e arriva l'acqua è tutto scontato, per arrivare a questo invece c'è un mondo di lavoro, così come sulla fognatura e sulla depurazione, così come sui rifiuti, quindi per fare tutto questo serve competenza, professionalità, che come azienda siamo veramente soddisfatti di averla, e credo che abbiamo messo al centro proprio la relazione col territorio. Vorrei ricordare che noi abbiamo vinto quattro premi del Top Utility, il primo che abbiamo vinto è stato proprio, se non ricordo male, nel 2012, è stato la relazione col territorio, che è mettere al centro il territorio, la collettività e i nostri stakeholder istituzionali. Proprio in questa direzione abbiamo modificato nell'ultima assemblea di bilancio lo statuto, dove abbiamo messo proprio lo scopo sociale, attraverso quello proprio per dare un senso ancora più forte, anche dal punto di vista formale, di quello che è il nostro impegno verso l'inclusione, verso la ricaduta sociale, verso la ricaduta ambientale. Vogliamo essere veramente a fianco degli amministratori e dei sindaci, dicevo, perché comunque il periodo che dovremo affrontare non sarà facile. Quindi oggi l'emergenza idrica, l'emergenza e la crisi energetica ce lo dimostra e tutto questo significa che ognuno deve fare un piccolo passo, un piccolo contributo in modo tale che l'intero sistema poi possa avere dei risultati.